Musica Presentata giovedì 3 luglio nella sala della presidenza della regione Puglia, la conferenza stampa del 40esimo festival della Valle d'Italia, che si inaugurerà il prossimo 18 luglio presso il Palazzo Ducale di Martina Franca. Un festival in cui si celebra la musica colta, quella del passato e quella del futuro. Un evento che è frutto di un lavoro straordinario, ricerca nelle tradizioni e nella storia musicale. Un lavoro di recupero e di restauro, anche filologico, di vecchi capolavori che non sono stati mai più rappresentati, e insieme la possibilità di produrre mescolanze tra ciò che è antico e ciò che è moderno. Non è un evento, ha detto il presidente della regione Puglia, Necchi Vendola, del folcore locale, ma un festival di respiro cosmopolita. Un appuntamento che attrae da tutto il mondo un pubblico specializzato, che viene a godere di quelle notti in cui musica e bellezza si fondono magicamente. La quarantesima edizione del Festival della Valle d'Italia, ha spiegato l'assessore Godelli, rappresenta davvero una festa speciale. Nel cuore dell'estate, nel cuore della Puglia turistica, in una città tra le più belle d'Italia, diamo vita ad una connessione tra arte, cultura e territorio veramente eccellente. Ecco, in uno dei frammenti più belli di Mediterraneo, nella meraviglia della Valle d'Italia e nell'incanto di Martina Franca, un festival che è un richiamo internazionale, in cui si celebra la musica colta, quella del passato e quella del futuro. Un festival che è frutto di un lavoro straordinario di scavo nelle tradizioni e nella storia musicale, un lavoro di recupero, di restauro, anche filologico, di vecchi capolavori che non sono stati mai più rappresentati e insieme la possibilità di produrre mescolanze tra ciò che è antico e ciò che è ipermoderno. Un'altra espressione molto importante, il Presidente della Repubblica, l'Italia sia cultura. Il Presidente della Repubblica è veramente una testimonianza vivente di quello che è il valore della cultura per il nostro paese. È lunga vita a questo punto il Presidente Napolitano. C'è qualcuno molto volgare che lo invita a ritirarsi, a festeggiare i compleanni con i propri nipotini, io invece lo invito a continuare a festeggiare i compleanni con la rappresentanza del nostro paese. Sì, io guardo al futuro perché il festival non è franco punzi, il festival è di una squadra giovane che si può non servizio dei giovani, per cui mi auguro che i prossimi 40 anni possano decollare, soprattutto con una politica rivolta ai giovani, per promuovere artisti in tutto il mondo. E questa è la missione del festival, la prima. La seconda, quella di dire a tutto il mondo che al sud dell'Italia, nel mezzogiorno dell'Italia, esiste una realtà musicale che si inserisce in un ambiente particolare e che si inserisce anche in una storia ricca di musica e ricca di tradizioni. in un mondo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.